Il giornalista Piero Giunta è il nuovo direttore responsabile della nostra testata giornalistica. Succede a Katia Pioggia che ha firmato il nostro radiogiornale per un breve periodo e a cui vanno i nostri ringraziamenti. Radio Dimensione Musica si complimenta con Piero Giunta che ha dimostrato in tanti anni di assidua attività giornalistica a favore soprattutto delle comunità ispicese e pozzellese di meritare la guida della storica testata giornalistica di Radio Dimensione Musica di cui sono stati i direttori responsabili anche a Tilio Sigone, Salvatore Puglisi e alla già citata Katia Pioggia. Siamo in un periodo in cui i social la spadroneggiano ma la nostra emittente rimane sempre una fonte di informazione a cui migliaia di ascoltatori ogni giorno fanno riferimento sapendo che le nostre sono notizie e non pettegolezzi. Qualcuno fa confusione con quanto accade sui social dove tutti possono dire tutto senza filtri e soprattutto non tenendo conto che a volte certe affermazioni o notizie poi rilevatesi infondate producono danni incalcolabili. La nostra è un'informazione che facciamo in modo serio applicando da buoni giornalisti le regole deontologiche. Tutti i giorni, 365 l'anno, entriamo nelle case degli ispicesi e dei pozzalesi e credeteci, sono in molti a gratificarci per quello che facciamo. Dal 1987 diamo la parola a tutti senza distinzione alcuna, anche se a qualcuno toglieremmo volentieri il microfono. E chi parla da noi lo fa in maniera gratuita. Nei giorni scorsi qualche politico insinuava che le rubriche La Voce al Sindaco che vedono ospiti il lunedì il sindaco di Ispiche Nocenzo Leontini e il martedì il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna fossero a pagamento. Assolutamente no, tutto gratis. Come gratis, ci teniamo a precisarlo, sono i consigli comunali ispicesi che trasmettiamo in diretta a volte anche per diverse ore. Per essere precisi e corretti diciamo che il comune di Ispica da anni non commissiona alcun servizio alla nostra emittente, mentre il comune di Pozzallo ha commissionato quest'anno alcuni spot per la promozione dell'estate pozzallese. Diciamo queste cose per far capire che la nostra emittente è strettamente legata solo ai nostri inserzionisti che ringraziamo per la costante fiducia che dura da quasi 35 anni. La nostra è una passione che mettiamo al servizio della comunità. Un anno fa Radio Dimensione Musica ha permesso di seguire lo spoglio delle amministrative costantemente in diretta, dando un servizio unico nel suo genere ai cittadini di Ispica che non hanno lesinato complimenti e ringraziamenti. È per questo che ancora oggi siamo qui, perché sappiamo che dietro ai nostri sacrifici ci sono tantissimi ascoltatori che aspettano ogni giorno i nostri notiziari. Finché potremo, saremo al fianco della gente, lontani da ideologie politiche che non ci interessano. Il nostro Piero Giunta con spirito di sacrificio ogni giorno, attraverso le sue interviste e i suoi articoli, racconta il nostro territorio. Oggi il pregevole riconoscimento della firma del nostro radiogiornale. Auguri Piero e buon lavoro!